Questo è venuto proprio bene Mano d'aria sull'effetto, un po' più palco, più palco Troppo effetto Ok Adesso che sei lì, invece, solo la vediamo, mangi il tuo cuoietto sulla panna Bravissimo Ok, un po' più grossa, bravo l'ossa, ma ok Allora Ti metto da questa parte Un po' più da questo stilio Un po' più Ricordati che è importante il petrolio e meno l'effetto Troppo pieno, guarda come rimangelo adesso Più alto, ma non adesso è più alto Ok, no No, senti, senti, senti Concentrati su questo punto Ok Ok, fermo, fermo No Bravo Bravo Non potete neanche avere una evoluzione di lungo e lungo Se si agiti indietro Vai Vai Adesso fai da solo, abbassa, non puoi dare l'effetto Poco pieno Poco pieno Poco pieno Qui non c'è effetto Qui non c'è effetto Ecco un po' tardi Vai Vai Un po' di effetto lo mettilo Perfetto Perfetto Eh, quindi non puoi dare l'effetto da solo Tirate l'ultimo anche un po' di effetto in giù Qui Un po' di effetto è alti Un po' di effetto in giù e anche lì Un po' di effetto in giù e anche lì Ok. Ia. Vai. Ia. Voi? Voi? Voi saprassate posto? Molto più giù, molto meglio freddo. Più lancia fuori certamente. Più 14 ore, veramente. È più scarsa, così la forza la mandi qua. Più fina, più fina. Ok, adesso mettiamo un po' d'effetto. Un po' d'effetto. Perfetto. Bene. Molto più giù. Ma questo va bene. Questo va bene. Papi in giù. Papi in giù. Papi in giù. Papi in giù. Un po' di giù. Un po' di giù. Spingo lì l'aspetto. Ok. Vieni, fissa, stiamo andando veloce, allora dobbiamo finire. Guardi, guarda la palla, si immagina, lo stesso. Metti il vetro, un tappo di eccetto, poco più scarsetta, ancora più scarsetta, ancora più scarsetta, ok. Ok, non è sasperato tutto, non è sasperato tutto. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. giù, meno piglia, meno piglia, ma che ti lascia aspetta tranquillo, non succede niente se sei pari, tranquillo se sei pari, no, non ti preoccupare, non succede niente se stai insespectivo, tranquillo, vada, 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 Non c'è solo un dito Ok, riposo di un attimo La vediamo qui con calma, giustamente Dopo quanti mesi Pensate di fare Ok, allora ragazzi abbiamo giocato quattro Carcere, posticipo Posticipo di cinque sponte alla rossa Per le trofinezza Quattro figure a base del giro Quinta figura a base del giro Ah, mi è dipendicato di questa figura D'elemento di riconoscimento L'elemento di riconoscimento è E guardiamo la lunga Ok, la lunga l'avate opposta all'arrivo Ok, ma all'unico La linea che unisce i due centri Guarda la lunga in questo tipo Ok Quinta figura del riconoscimento del giro La linea che unisce i due centri Cosa guarda la sposta? Cosa guarda? La lunga va dalla parte della linea Ok, ci giochiamo alla finezza E passiamo dietro Ok Il mio gesto dov'è? Il mio gesto dov'è? Il mio gesto dov'è? Il mio gesto dov'è? Ok Allora, finezza Riconoscimento La linea di unione guarda la lunga Mirko, dai Veloci che è molto più Potremmo chiudere Per aiutarti in questo tiro serve l'effetto Parametri necnici Un quarto di piglia Effetto a destra E velocità allegra Il mio gesto è Per proiettare il foglietto All'interno Della via rossa Rarissimo Ok Paolo Proiettiamo il foglietto Il foglietto qui Paolo Se no vai qua Perché poi la piglia sta Fina Più Bene Inveghiamo 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 Abbastanza impegnatissimo passare qui dietro Inveghiamo 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 E poi Comunque Quando vai all'effetto Lascia Almergo Un po' Un po' Un po' Un po' Vedi che Scatti tanto Poi con queste steche Scatti un po' Spendere Il sistemato l'esempio 2 e ancora una che alla fine è serena e tranquilla che si fa su tanta quantità l'ultimo finale c'è una pista il pezzo sarà per te a destra un pochino sta a tirare dalla parte opposta quindi cercare di regolare un po' più veloce un po' più veloce un po' più veloce un po' più veloce leggermente più veloce così non la prendi vai un po' più dentro ok vai un po' più dentro un po' più dentro il tubo dentro vai su tutti i lati di effetto e il tubo dentro lo metti dentro adesso è troppo pieno forse che ancora ancora leggermente adesso viva questo è il persino ecco tranquillo cerca di sentire che non la prendi e che poi la prendi fai al contrario così non la prendi e poi niente da prendere troppo pieno bravissimo ok? ok ragazzi l'ultima figura ve la faccio vedere solo io purtroppo sono le otto in doppia rocchina è il traversino girchiamo sulla sinistra della rossa o più in destra effetto un tiro di posticipo posticipo ok? e lo vediamo la prossima volta allora ricordiamoci le figure di riconoscimento capcere posticipo 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 di porta posticipo di pubblica retrofinezza ok? retrofinezza ok? retrofinezza ok? passare dietro finché vediamo la lunga e il traversino vediamoci in questo caso la lunga ma la lunga tutto qui ok? ragazzi complimenti a tutti e alla prossima ok? aspettate la montata non non poi si non perfetto ok? è ok? tutto